Mi piacerebbe che anche tutto il mondo del sistema museale italiano, la piccola parte gestita dallo Stato, potesse rispondere a questo sistema in qualche modo più semplice, più fruibile e più operativo. Diceva il senatore Quagliarello all'inizio che questo vuole essere un momento operativo e valutativo, appunto a corredo dell'ultimo disegno di legge. E' vero che si è fatto tanto pensando al lavoro della riorganizzazione delle gerarchie del sistema museale, va detto che chiaramente non possiamo fare a meno né dei sovrintendenti, né dei sovrintendenti, c'è necessità della loro competenza, della loro preparazione e della loro conoscenza di quelle che sono le realtà presenti sul territorio. Ma c'è il problema che risistemare, rimodificare, rivedere questa struttura non è sufficiente in un momento come questo, dove la cultura, come in tutti i momenti di crisi, guardiamo quello che è accaduto nei paesi anglosassoni, nei momenti di crisi bisogna unirsi tutti assieme alla ricerca di quella della propria identità culturale e la nostra identità culturale passa proprio attraverso l'immenso patrimonio, sia esso pubblico, sia esso privato. Manca però un'attuazione. Io lo so che il disegno di legge, la 110 del 2014, che ha novellato il codice dei beni culturali e paesaggistici, presuppone la realizzazione di un regolamento attuativo. Ma un regolamento attuativo possibilmente realizzato in tempi brevi, perché il tempo passa, la cultura si invecchia.